buongiorno ragazze buongiorno a tutti come state spero bene allora un nuovo video che criccio come state dunque questo è un video appunto parlare un po con voi e niente buona domenica tutto innanzitutto ea tutti mi trovate in cucina perché la location in cucina e si sono ancora in pijama potete ben vedere e niente oggi non so ancora che cose farò di viti altri video perché è da un verso c'è tre giorni non registro vero sì se non di più tre o quattro cinque giorni non registro però un testo di tornare a registrare altri video e portarmi avanti con tanti altri contenuti non ho ancora idea di quale perché ho visto che sono stata taggata da tantissime persone e tantissime non direi però alcune e non ho ancora idea di che video tag fare perché non è che non ho voluti fare ma ero talmente impegnata a fare altre cose che ho detto ma li faccio non li faccio sti tag dire di farli perché sennò arriva passo negli anni e io sono ancora in alto modo a fare altri video vabbè no comment se sentite la televisione sottofondo perché lo cesare fanno in compagnia perché non piace allora primis silenzio tomba a me non piace quindi se sentite la televisione perdonatemi non me ne vogliate ma io con la televisione sottofondo senza televisione sottofondo non ci resto però vabbè questa è una casa come dire una casa privata non ho spazi dove fare altri video cioè ce l'avevo in camera mia ma è talmente buio e coso che è talmente buia e con poca luce che ho deciso che la cucina è la più solare come se mi dice non solare non voglio dire più c'è più luce insomma più luminosa e più luminosa che mai e quindi ho deciso di fare questo video qui con voi niente ragazze allora oggi ha fatto colazione ho già fatto le mie cosine solite di guardare i vostri video devo ancora passare da altri ma non ho avuto il tempo ci dovrò passare perché altrimenti siamo non so magari vi arrabbiate vi scocciate o mi dite che perché non passi qui da me e avete ragione devo passare più spesso da voi però ho anche anche io altre cose da fare ma non vuol dire niente devo passare come devo imporre l'impegno di passare da voi perché mi sembra giusto così ah se vedete vanno non più i baffetti perché è scontato ma vero le ho tolti non le potevo più di stare con i baffetti ma sta macchina non se ne vuole andare perché sono un bulbo perifero sì 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 c'è un bulbo qua vedete quando mi andassi mette l'impegno questo bulbo non c'è quasi quasi mai però siccome stanotte stamattina sì stanotte ciao come sì certo come non siccome che abbiamo mia nonna stamattina andava di fretta non mi era potuto fare quindi mi farà al pomeriggio o dopo dopo pranzo vabbè dopo pranzo come avessi detto di pomeriggio comunque è così ragazze sì mi vedete in pigiama perché sono in pigiama quindi niente ho voluto fare questo video per voi se se guardo di là è per cui si arriva gente ma non arriva gente perché oggi domenica sono tutti per i cavallacci sui meglio così già quindi niente allora io dovevo abituarmi a guardare di qua ma guardo qua giù quindi vabbè niente non mi abituirò mai a guardare nel buchino della telecamera cioè un attimo solo nulla allora ho stoppato un secondo perché voglio vedere cosa potevo mostrarvi per farvi vedere un po di cosina ma non c'è verso non so cosa fa non è che non c'è verso questo di anche io niente voglio provvedere delle cose ma in realtà la spesa anzi volevo fare il video svuota la spesa ieri ma noi davanti ieri non mi ricordo adesso perché era venerdì ieri sì ieri era venerdì no ieri cosa sto dicendo ancora ieri era sabato il venerdì scorso sarebbe dopo ieri l'altro ieri cioè venerdì ho fatto la spesa ma non ho avuto occasione di fare il video svuota la spesa per uno punto primo ero stanca punto secondo non è nel momento di fare il video perché mia nonna uno è tornata anche lei dà la spesa poi ho fatto sì la spesa gliel'ho fatta anch'io ma con un'altra mia amica con la mia educatrice sì quindi ho detto non faccio più di svuota la spesa perché magari lei non si vuole riprendere videocatrice di giusto così devo anche rispettare la privacy degli altri sì la privacy prima di tutto poi allora ho fatto così ho preso la spesa se l'ho rimessa a posto ho fatto i miei conti quanto ha speso e niente non so neanche dove ho messo lo scontrino non ho idea dove sia lo scontrino ma vabbè ce l'avrà già buttato l'avrà già cestinato nelle mondizie ma vabbè nel secco non so venga lo scontrino si mette nel secco sì e niente quindi alla fine ho deciso di di non fare i video svuota la spesa appunto per il motivo che mia nonna è andata la spesa per conto suo perché doveva prendere cosa che si arrivano a lei non so se erano tensili o che cavolo era non mi ricordo cosa dovevo prendere vabbè comunque sia stata fatta la lista della spesa ho detto no ti accompagniamo io vabbè faccio un nome di fantasia simpronia per non fare il nome vero perché non si può non mi va di fare di avere problemi quindi niente sì io e simpronia ti accompagniamo non posso fare il nome di chi devi accompagnata con la spesa perché non si può comunque di fantasia io simpronia ti accompagniamo alla spesa no perché devo prendere una cosa per conto mio quindi voi andate con la macchina di simpronia e io vado per conto mio lei è andata a dispara mia nonna e io sono andata con simpronia alla spesa all'euro spin perché lei avrà anche fretta di andare alla spesa no vabbè fretta no più che altro volevo farmi andare alla spesa con lei e sono andata con simpronia alla spesa con simpronia però io con lei e basta mia nonna non è andata e vabbè non è voluta venire con noi anzi lei voleva andare direttamente ad espar quindi ad espar l'evento meglio di andare a l'euro spin perché l'euro spin se con lei insomma si sente male perché l'euro spin già è lontano non è vicinissimo da casa non è dietro l'angolo c'era parola 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 lo spin è lontanissimo quindi sarebbe quasi più su di quanto si prega ha detto ma direte ma dove queste le spie a parola e ad ansia c'è una montagna cioè c'è un po come si può dire una strada si chiama parola alta c'è parola parola basso che non so come si chiama un paese parola basso un paese non so come dire ragazzo non spiegare insomma parola un paese è parola alta su e parola alta su vabbè il mio modo di spiegare non sono il massimo però per fare un esempio più pratico che può venermi da me parola alta su c'è il dettore market che si trova alla destra e alla sinistra l'euro spin scendendo più giù vicino aveva donna l'avventoressa oculista già e niente se guarda se vedete che guarda al suo perché c'è oltre al buco della telecamera sta arrivando un sacco di notifiche nel banner del mio telefono quindi niente e nulla ragazze tutto sommato io sono dell'euro spin con simpronia e ha fatto tanta spesa tanta qual è poco cosa che mi servivano mi ha mangiato anche lo stracchino che è stra buono pascoli italiani stra buono e niente ho fatto ho fatto tanta spesa non ho preso questa che dolciumine ho preso solo metto un paio di patatine che da sono tanto tanto buone e poi cosa ho preso ai cracker che sono qua sono questi vedete questi qua sono buonissimi si guardate le mie unghie perché sono orribili devo rifare vedrete cosa aspetta a rifarti le unghie non ne avete ragazze non è perché sono impegnata e non ci vuole di farmi per esempio sia motivo che mi scorcia a farmi lo so sono un'ansia non me lo devo fare perché non sono bella con queste unghie tutte sfatte e schifosissime brutte non sono sporche le puliscono sempre ma e lo smalto che non va bene e lo so e vabbè comunque questi sono i miei come dire i miei i miei cracker non mi dico la parola ma vabbè non commento questi sono i miei cracker e sono stra buoni presi all'euro spin e mi piacciono 1,39 ho pagati ho qualcosa di simile non mi ricordo il prezzo vi è scritto nello scontro che ho gettato via nel secco però non costano tantissimo dai e quindi nulla già 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 se volevo dirvi altro non mi ricordo più nulla che stamattina fa un bel fresco stavo per dire una fesseria una fesseria a modi strapalcioni però vabbè e si sono in pigiama perché il pigiama non è molto caldo ma non è anche così leggero è un pile questo è un pile l'ho preso non so se si dice felice o felice vabbè vabbè non preso prima di starci sapone i profumi a palau prima di piazzarsi sapone i profumi in via razzoli che adesso non so dove segui di palau dove non so vabbè penso che lo sappiate in via razzoli c'è no non è via razzoli o via carattina vabbè non ricordo comunque a palau c'è un negozio che c'era un negozio di casalinghi che mi scriveva la felice poi non mi ricordo che altro nome e vendeva un negozio di casalinghi e di robe per la casa per l'appunto cosmetici e cose varie vendeva questo pigiama che io ho comprato a un prezzo buono stracciatissimo non sto scherzando non lo voglio vendere solo per dirvi che da quando ce l'ho da quando avevo massimo l'età minorenne perché adesso sono una 34enne sono adulta da prima di diventare adulta ancora questo pigiama mi stupisco di me stessa che mi va ancora bene nonostante ho un bel chiletto in più ovvero sono belle in carne non voglio dire cosa però cosa che senso quanto peso ma non peso tantissimo ma neanche poco comunque questo pigiama mi sta veramente bene a me non fa impazzire perché mi piace di più il pigiama di Snoopy so che piace anche voi a me piace di più quello ma vabbè fa un brodo perché perché lasciamo a perdere vedrete perché fai così perché questo pigiama vabbè non è che mi piace vabbè si c'è un cuoricino è carino è rosa è celeste di tutti i colori ne ho vabbè nel senso che uno è celeste di ceno di due colori uno è così col pantalone rosa e l'altro è col pantalone celeste di questo colore qua però io l'ho voluto di tutti e due i colori anzi mia nonna mi ha voluto fare questo regalo che l'ha fatto alle mie cugine e se non erro a una mia amica che adesso la seguo addirittura su Instagram ci siamo conosciuti in un posto un po' così è così però non voglio dire dove perché anche lì è privacy qualsiasi cosa vi dico non tutto vi dico perché ragazzi qua siamo su internet e non si sa mai ok allora ragazzi mie quindi tutto sommato questo pigiama mi piace è bello caldo ma non caldissimo quando c'è la stufa accesa diciamo tutto sommato quante volte sto dicendo queste parole allora quando c'è la stufa accesa si crepa di caldo però si sta anche bene però quando spegne la stufa un po' il caldo rimane ma non del tutto vabbè però il caldo c'è io lo sento adesso non lo sento più di tanto perché ultimamente come dire e sì ragazze c'era un periodo che sentivo molto caldo quando lo sento il caldo a momenti sono più si può dire arrabbiata sì per non dire altro per non dire cosa ecco avete capito già quando sono incavolata nera che mi arrabbio troppo mi scaldo oppure quando sto facendo corse cioè camminata non posso correre ma camminata veloce e sono più insomma tra mente e tra 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 fronte e mento mi lucido tantissimo comunque sudo come normale che sia e perché io ho la camminata veloce non è sempre facevo tante volte alla mattina un sonno bestia e non so manco come mi chiamo in momenti oppure che ne so vorrei prendere il telefono ma non so manco quando ha suonata arriva il disco non so manco che cosa sia anche per me il telefono è la verità come credo per tutti voi voi la mattina avete voglia di vedere il telefono a mano io mai per niente perché ho un sonno bestia che non so perché il sonno è benedetto in ogni caso se non abbiamo il sonno non è una cosa normale fattibile il sonno è sacro e bisogna riposare perché il sonno va bene però ribadisco se non c'è il sonno siamo pregati non stiamo bene con la mente quindi va bene sonno è prezioso non si tocca già ve lo dico comunque a parte questo io vi dicevo sto quando io è molto caldo perché anche la tiroide non so se si dice così o meno con la specie di cosa che mi fa tanto caldo sto anche bevendo molta acqua sì 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 l'acqua assolutamente la sto bevendo però nulla non mi non mi fa insomma più caldo più da pure acqua insomma e bevi l'acqua dire voi direte sì bevo l'acqua però vabbè stamattina mi ha fatto un bel caffiuccio non ho fatto il video blog di morning routine niente però niente non volevo farmi morning routine una cosa così un'ottina idea ma non mi è interessato perché l'ho fatto altre volte ma non mi fa impazzire questo cosa mangia un giorno 15 giorni insomma preferisco non farne e se lo faccio lo faccio così tanto per farlo anzi tanto per farlo non si può sentire però per divertirmi a fare qualche video così ma facciamo già lo farò boh vabbè già niente ragazze questo era tutto io adesso vi saluto perché in un altro video voglio fare non so se però video sguocci delle palette che sto utilizzando una volta di tanto perché adesso tra poco ricomincio a ritruccarmi seriamente e a mettere in azione fondotinta che ho appena acquistato della essence dall'altra volta quando si è stato quando è che è stato acquistato quando tinta non me lo ricordo vabbè ci sarà lo scontro di sapone i profumi e c5 in sardegna non mi sa con i profumi quindi niente ho deciso che però questi video sguocci delle palette però anche una full pace con le pare con il fondotinta della essence e anche il correttore che ho acquistato che mi era terminato a mia volta che mi era terminato di l'oreal infallibile 327 cashmere sì vi dico colorazione tutto una numerazione perché così almeno voi sapete che tipo di colorazione o di occhiaie già niente quindi ragazze che ne dite voi che adesso io chiudo il video vabbè cos'altro volevo dire che poi chiudo sennò mi stancate però pazienza perché mi piace fare video mi piace mi piace quindi cosa dirvi che nulla ieri cosa ho mangiato non mi ricordo più ho aspettato la seconda e mi stacco oddio mio aiuto vabbè quindi ho intenzione di appunto cosa stavo dicendo mi sono persa sì non era quello che volevo dirvi con un'intenzione di non c'entra niente con quello che mi stavo dicendo ah sì ieri ho mangiato che cosa ah le patatine fritte squisite stra buone quelle dell'euro spin e poi le faccio vedere non lo so aspettate allora sono queste qui si certezza aperte per farvi vedere apposta cosa ho comprato le delizie dal sole e sono da forno patatine appunto sì buonissime queste qua sono queste fritte per da friggere nel da friggere in padella o mentre al forno un po' è più preferita però io ho preferito la metta della friggitrice perché mi ci trovo bene sono buonissime e metto un po' d'olio con sparso in mezzo alle patate e sono patatine e sono fritte e sono buone perché allora a mettere mezzo all'olio si come si può dire sì non so ma non va bene mettere mezzo dentro una padella e friggere così perché salta l'olio ecco cosa vuol dire salta l'olio non va bene comunque niente ragazze queste sono le patatine fritte e mi piacciono sono buone me le mangio anche con lo stracchino o con un hamburger oggi devo mangiare con un hamburger io l'ho mangiato da sola e con lo stracchino oggi le mangio con un hamburger e mi tocca a sana mi piacciono se non si fanno sempre bene ma una volta ogni tanto ci stanno dai poi domani mangiamo o stasera non ne ho idea queste qua che sono della despar vedete despar allora carciofi cuori di carciofo la parte più tenera la parte più tenere carciofi buonissimo così devono essere in caso ormai ve li faccio vedere in un impiattamento se riesco e vi riprendo non quando sto mangiando perché non può interessare a nessuno ma almeno ti riprendo l'impiattamento oppure direttamente quando sono sul piatto vediamo un po come mi riesce meglio a me come viene più comodo questi sono i carciofi buoni buoni e sono 450 grammi si buoni e rieccomi allora ragazze mie e ragazze belle dunque questo video termina è quasi al termine e niente io vi ho fatto vedere tutto ciò che non tutto tutto alcune cose e i crei sono sempre quelli in versione salati perché sono buonissimo messa l'altro invece non a morire infatti adesso tra poco li apro e mi mangio anche crete non tutti ma alcuni sì anzi tutti perché io ho una fame da lupi non si sfugge aspettato secondo sole 11 18 allora l'unice e mezzo devo prendere la pastiglia per il dente perché poi non sapete ma non so se avrò detto l'altro video in parisi visite per sconfiare pene prima di poter fare la l'operazione in bocca se sempre semplicano l'ok per andare a maxillo facciale non è detto voglio sperare incrociate le ditte per me che vada tutto bene già incrociate veramente le ditte per me ok e niente io e i miei cracker salati tra poco anzi tra poco adesso vi stentiamo tra poco vuol dire subito e ci vediamo dopo questo video aiuto diventato stralungo non so se me lo guarderete ma ci provo a caricarlo ciao mettete un bel like di supporto non l'ho detto all'inizio ma lo dico alla fine e commentate iscrivetevi e attivate la campanella ciao ciao